Bentornati e bentornati a tutti, è il momento di far entrare una musicista che suona uno strumento molto molto sensuale, lei si chiama Jessica Cocchis. Jessica, complimenti, che bello, sono uno strumento, in particolare il sax, racconteremo un po' la vita e la storia professionale di Jessica, prima però un omaggio alle tue dita che si muovono, alle tue unghie, c'è Morena Mazzaron pronta per te, andiamo! Evviva! Ecco la nostra unico tecnica, ciao Morena, lei è Jessica, già vi siete conosciute, ciao cara, prego perché farà una menata doc, vero Morena? Sì. E vi sono innamorato!